Nonostante gli indicatori sull'economia ligure non diano ancora evidenti segnali di ripresa, i dati emersi dall'indagine di Union Camera Liguria evidenziano da parte delle imprese una propensione alla crescita occupazionale attraverso la ricerca di figure professionali che nel corso degli anni tende sempre più a privilegiare competenza e esperienza nei vari settori e disponibilità. Su oltre 1.102.000 assunzioni programmate dalle imprese a livello nazionale, in Liguria ne sono previste 25.700, il 2,3% del totale, di cui a Genova 14.830, a Imperia 3.030, a Savona 4.230 e alla Spezza 3.610. Rispetto allo stesso periodo di un anno fa, quando le opportunità di lavoro previste erano 24.370, si registra una crescita complessiva della domanda pari al 5,5%. Nel trimestre in esame, il 78% delle assunzioni programmate sarà assorbito dai servizi, in particolare commercio e turismo. Nel trimestre in esame, il 79% delle assunzioni programmate sarà assorbito dai servizi,